qui vi faccio la prima riflessione e cioè come costruiamo il nostro profilo e ritorno ritorno un attimo da voi allora nel nel nostro profilo noi tipicamente che scriviamo ragazzi apritevi il microfono o scrivetemelo come vi pare allora entro la prima volta su facebook mi costruisco un profilo stefania spina che informazioni ci metto tipicamente i nostri dati i nostri dati quali dati quali dati però io posso come dati ci posso anche mettere che numero di scarpe porto per esempio il nome poi la città di provenienza ancora la data di nascita all'età vostra l'età mia già sarei un pochino più dubbiosa l'indirizzo anche lì non so se consigliarvelo ma va bene insomma diciamo più o meno la provenienza che ci permette tutta una serie di interessi che ci permettono di connetterci con persone appunto vicine a noi o geograficamente oppure in tema di interesse anche religioso sessuale politico certamente assolutamente quindi gli interessi gli orientamenti eccetera eccetera